Ciao ragazze, video diverso dal solito perché non l'ho mai portato sul mio canale ed è un video su vuota la spesa, sono stata da Eurospin, sono tornata da pochissimi minuti ho disinfettato tutte le buste, quindi ho perso un po' di tempo a disinfettare buste e contrabuste e ora vi faccio vedere cosa ho preso allora, come prima cosa ho preso queste che sono i multigrain, che sarebbero cereali con i frutti rossi e sono molto 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 buoni, io di solito li mangio o nel latte oppure nello yogurt greco, faccio colazione poi ho preso questo qua che è il pan di segale, questi qua se non mi sbaglio 1,79 euro ora vi dico pure i prezzi allora, allora, allora aspettate che non lo trovo allora, il pan di segale ho pagato 1,19 euro mentre questi qua non li trovo ah, 1,75 euro questi qui poi ho preso la pasta integrale, ho preso un pacco di penne rigate, questo qua della Tremolini a 59 centesimi poi mi serviva un balsamo per i capelli e ho preso questo qua a cocco e vaniglia che era in offerta, ma vi dico subito a 79 centesimi e l'ho voluto provare poi ho preso il mais dolce a 59 centesimi ho preso i pisellini, questi qua fini e stavano tipo 55 centesimi o 59 poi ho preso anche lo shampoo della Niar che era in offerta, lo shampoo illuminante era in offerta a 1,29 euro poi, seconda busta, ho preso un altro pan di segale poi ho preso questi qui che costavano 1,35 euro e sono i mini burger al farro 100% vegetali e volevo provarli un pochino poi ho preso una bustina di pistacchi per quanto faccio i spuntini poi ho preso i funghi champignon che se non mi sbaglio costavano 89 o 79 centesimi un altro mini burger pacco questi qua di mini burger agli spinaci e volevo provare appunto come erano visto che anche loro stavano in offerta poi ho preso un deodorante al talco che era in offerta a 99 centesimi e volevo vedere un po' come era questo qui perché non l'avevo mai provato poi ho preso la carne ho preso finissimo filetto di pollo a 2,69 euro e ho preso lo yogurt greco alla vaniglia perché mi piace molto questi qua stavano 89 centesimi l'uno poi ho preso altra carne questo qua sono le scaloppine ad un prezzo di 3,48 euro c'erano delle belle offertine e poi nella seconda busta come ultima cosa c'è un altro pacco di pistacchi poi ho preso l'insalata che non mi ricordo quando allora insalata 1,79 euro poi ho preso il pesto questo qui veniva 89 centesimi un altro yogurt greco alla vaniglia poi ne ho preso anche un altro alla vaniglia poi un altro pacco di pasta integrale a 59 centesimi e poi c'era l'offerta di 1,59 euro 3 yogurt greco bianco e poi ho preso il tacchino come ultima cosa il petto di tacchino perché stava in offerta ad un prezzo di il petto di tacchino è 1,79 euro allora ragazzi questa è tutta la spesa fatemi sapere voi in quale supermercato andate magari me lo scrivete nell'info box cioè nei commenti e ci confrontiamo un po' con le offerte varie ciao e al prossimo video ciao